Sono stati denunciati per il reato di abbandono di minore i genitori del bimbo di tre mesi trovato nella notte dell'Epifania nell'androne di un palazzo di Via Po ad Arezzo dove la famiglia abitava. Il neonato era stato ritrovato da alcuni giovani nel cuore della notte ed era così scattato l'allarme sul posto polizia 118 che avevano portato il bimbo all'ospedale San Donato di Arezzo. I genitori si erano poi recati al pronto soccorso due ore dopo il ritrovamento ammettendo di aver lasciato il neonato nell'androne ma accidentalmente senza alcuna intenzione di abbandonarlo. Adesso il piccolo si trova nel reparto di pediatria in buone condizioni assieme al fratellino di un anno e mezzo. L'amministrazione comunale di Arezzo dalle prime ore sta seguendo da vicino il caso ma il Tribunale dei minori non si rapporterà più con il comune aretino che comunque ha dato la sua piena disponibilità. La madre risulta residente a Subbiano, il padre a Tarquinia e quindi qualora i bambini venissero tolti dalla famiglia l'atto sarebbe inviato al comune di residenza per legge. Il Tribunale dei minori non ha ancora predisposto nuove ordinanze, al momento è stata comunque sospesa la patria potestà per entrambi i bimbi con un provvedimento urgente che li ha affidati temporaneamente al reparto di pediatria dell'ospedale San Donato di Arezzo. La questura infine sta completando tutti gli accertamenti su quanto è avvenuto quella notte per far piena luce sul triste episodio.